Ascultati, se tu contati come ti fai da Savoia in Sant'Igitalia, come ti fai da fostevi? La tradizione è che c'è parentesi. Io scrivo che c'è una relazione. Non tutti, no. Chi due mi cercano... Devo chiedere la città per questo. Chi non mi cercano, qualcun altro non mi cercano. Ma che... Peraldi esplicissi da orienta adulto. Capito? Tanto adulto... Pianto navegarlo... Prima, vero... A quina navegarla da raguosa, che non ha tra... Cosi tè da zadele... Dessa famiglia. E ninti... Cosi tè da zadele. Poi... Tic... C'è... 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 A te... Il peno l'as preparando la biancheria in questa immobili che ha dato il nostro papo con il suo papo e la sua esposa è molto obrigado, non è? questa immobili e questo è molto obrigado a noi questa immobili ha detto quando si ha detto la sua esposa la sua esposa sa abbiamo gozzi da tanta gente in iglesia ora, durante il suo cammino devo dire che il mio corretto ci sono due citture certo due devo di cucuregottisi abbiamo in un nuovo modo ci sono tutte in iglesia abbiamo in un nuovo 22 espressi inserito tutti in divinità almeno lavorare in cadenza e ci sono due via i due buoni lo so quando ci siamo due ma per ulteriore che siamo finiti ogni valore vanno uno un brato non hanno avraccato il drigo ma hai due se solo avraccato per salvare guardare è un auspicio su drigo è un auspicio è un auspicio è un auspicio e sull'aglio sempre voglio usare l'orguglio, usare l'orguglio che non potremmo usare l'orguglio è vero fuori appunto l'orguglio, suggerisce usare devo usare l'orguglio i suoi stili e il gioiello suggerisce la sua sposa? come ti fai? come ti fai? per forza, carvenazzo, ci sento lì, ci sento lì, ci sento lì, carvenazzo, un armaggio, un'altra cosa, un'altra cosa e come ti fai vestito? in costume usato? no, no, vestito come ti fai, come ti fai vestito, però non ho vestito a ruso, non ho vinto seriamente, molto, non ho troppo ho troppo avanzato e te colori come ti fai? ah, su un prusso olore voglio sempre, o bianco colori a rosa ah, colori a rosa? rosa vallido vallido, d'ordine a rosa vallido vallido mi dia così uè ma via, vestiti a me in conca, bello un calore e sere e buona notte, sconto nada e invece, sommini come ti dia vestito? e sopporti di agarrar gioiello? no, no, sommini, non resta me, ti matemi tutto come ti matemi tutto? bello vestimento, bella gravata, bello tipo da capelli e capelli, a conca sotto non ci andiamo ah altra cosa non ci andiamo, poi bello bottino poi niente adinare le scarpitas ah poi augurio i parenti come ti vorresti vengono una zia, un zio una sorresta, una amiga un tizzeriale a tuio oppure a me lavra di bia e ti via la scorsa a me ne zè prima vengo a camminare tam c'è tanto a 100 grammi non ti credo che c'è assieme non fesso da metà a metà no 100 grammi è vero la volta che la pitella pittesa non devo lì a uno per me stringendo 100 grammi per 200 non dovrei niente non dovrei niente questo vuoi dire non segnare un cuore tuo augurio è buonanotte cosa è abbastanza Grazie a tutti.